Momentaneamente fuori dalla zona play-off, l'Avelino di Rastelli ha ieri sera bevuto un sorso di speranza al calice della Coppa Italia che di fatto concede alla vincente di accedere alla fase nazionale. Cammino ancora lungo che il 16 novembre vedrà i bianco-verdi affrontare il Catanzaro al Ceravolo negli ottavi di finale ad eliminazione diretta. Giusto premio per l'impegno infrasettimanale di ieri che nel bel mezzo dei problemi di un campionato finora deludente i due tecnici hanno preferito affrontare imbottendo le formazioni di seconde linee sul fronte bianco-verde. Rastelli è ripartito dal solito 4-3-3 ma sorpreso tutti travestendo Canutè da falso 9 con Ceccarelli e guadagni a supporto. Una sorpresa tra le tante annunciate alla vigilia come quella del ritorno di forte tra i pali. Altrettanto rivoluzionato l'undici Corallino che il neotecnico di Michele, il terzo della stagione, ha disegnato col classico 3-5-2 privo delle bocche di fuoco Giannone, Leonetti e Santaniello, l'allenatore bianco-rosso si è inizialmente affidato alla sete di riscatto di Longo in attacco preservandosi in maniero per la seconda parte. Insomma, per tutti l'occasione giusta per mettersi in mostra, soprattutto per chi finora ha giocato poco o nulla come Ceccarelli. Non a caso l'ex sabbiese dopo appena 6 minuti ha esploso il suo sinistro che si è stampato sul palo, alla sinistra di Donini ormai fuori causa. Per nulla scoraggiato, il trentenne è cresciuto nella primavera della Lazio e nella prima mezz'ora salito in cattedra, mettendo il suo sinistro nelle successive quattro azioni dei lupi. Al dodicesimo, in tandem con Canutè, ha mandato Ricciardi sul fondo, ma quest'ultimo non ha trovato nessuno in aria pronto alla diversione. Tre minuti dopo ha sfiorato il palo alla sinistra di Donini con una conclusione dal limite. Al ventunesimo e al ventisettesimo ha costretto lo stesso portiere della Turris a volare due volte sull'incrocio opposto per deviare in corner. Da parte sua la Turris si è fatta vedere solo dopo la mezz'ora con un sinistro fuori misura di Adudi e la seconda volta con Stampete che prima dell'intervallo si è fatto stregare dall'ex epurato. Il portiere, al rientro tra i pali dove mancava dal 4 maggio scorso, gli ha chiuso lo specchio neutralizzando in due tempi il suo tentativo di sinistro. Segnale d'allarme che Rasteri nella ripresa ha raccolto subito, ripresentandosi con Matera al posto di Franco e Gambale in luogo dell'intermittente guadagni. Una doppia mozza che ha riportato il sanegalese sull'esterno e l'ex Montevarchi nel cuore dell'aria. Ironia della sorte, proprio come domenica scorsa, i nuovi entrati hanno subito rischiato di lasciare il segno. Matera dopo 8 minuti si è ritrovato la palla sul destro, ma a porta spalancata. Si è fatto neutralizzare la conclusione da Frascatore. Altrettanto clamorosa l'azione che Gambale si è costruito da solo, inserendosi tra i centrali Bocce e Frascatore, con l'ex Cagliari nuovamente decisivo. Doppio presagio al gol, arrivato per mano del migliore in campo Ceccarelli. L'ex Lazio, al diciottesimo, si è guadagnato prima un rigore per atterramento di dinunzio e poi l'ha trasformato con chirurgica precisione alla destra di Dolino. Un gol liberatorio che ha preceduto di pochi minuti la sua sostituzione, ma anche il pericolo portato dalla Turris con Aquadro, che ha chiamato nuovamente forte all'intervento. Senza più nulla da difendere, Di Michele si è giocato la carta maniero, al posto di stampete un ingresso importante che ha alzato il baricentro degli ospiti, anche se l'ex dal dente avvelenato, poco dopo la mezz'ora ha letteralmente graziato forte, ciccando di testa il traversone di Ercolano dalla sinistra. Da brividi, il finale col portiere Biancoverde, chiamato a intervenire in due tempi soffrascatore prima di essere graziato da Contessa, che al quarto di recupero ha calciato a lato da buona posizione.